La situazione è questa, siamo in un maneggio in aperta campagna, una bella giornata di sole e ci sono tre cavalli, è un piccolo maneggio, che si chiamano questi cavalli Margherita, Donato e Felice. Questi tre cavalli hanno un problema, un grande problema, soffrono di mal di denti e allora viene chiamato giustamente un odontoiatra, un dentista per cavalli. Il dentista arriva però a pochissimo tempo e può visitare solamente due dei tre cavalli perché deve andare via per un'emergenza. Quali sono i due cavalli che sceglierà? Vi posso anticipare che il dentista non ha alcun dubbio su quali cavalli scegliere. Qual è il suo criterio? Come mai? Perché? Se volete ragionarci senza scoprire la risposta, stoppate il video. Ma dai, è chiaro, sceglie Margherita e Felice perché a cavall Donato non si guarda in bocca!